Una calda e soleggiata mattinata ha accolto a Vibo Valencia le celebrazioni del 2 giugno. Una mattinata che secondo la volontà del prefetto Paolo Giovanni Greco si è articolata in diversi momenti, tutti rivolti a celebrare con la giusta dose di enfasi questo momento cruciale per la vita della Repubblica. Come da tradizione infatti il primo appuntamento è stato in piazza 24 maggio, dove come sempre con gli uomini e donne in divisa schierati, presenti le associazioni combattentistiche d'arma, i sindaci, i cittadini, il prefetto ha deposto una corona in memoria dei caduti al suono del silenzio d'ordinanza. Quindi il corteo si è spostato a piedi lungo il viale Regina Margherita, di fianco al corso Umberto I, per raggiungere la piazza del Duomo, dove lo schieramento militare ha fatto da degna cornice le manifestazioni legate alle celebrazioni del 2 giugno, con la partecipazione del coro e dell'orchestra del liceo musicale Capi Albi di Vibo Valencia. Si è proceduto la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed il discorso tenuto dal prefetto greco, che ha tra l'altro sottolineato in linea con il Capo dello Stato il valore di quello che è stato definito il patriottismo costituzionale. Successivamente si è proceduto, lungo lo schieramento in piazza San Leluca, alla consegna delle onorificenze al merito della Repubblica, quindi l'esibizione dei Vigili del Fuoco con la discesa del bandierone. L'ultima parte di questa articolata mattinata dedicata al 2 giugno all'interno del Valenzianum, dove è stata inaugurata la mostra sulla Repubblica allestita nelle sale del Museo Limen a cura dell'archivio di Stato, mentre il colonnato dell'antico convento dominicano ha ospitato la mostra dei lavori di alcune scuole primarie della città. Da sottolineare la numerosa partecipazione dei cittadini è conferma di quanto sentita sia questa ricorrenza, apprezzata ancora di più per come quest'anno è stata organizzata dalla Prefettura. Grazie.